Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro litigano anche in Spagna. Oriana Marzoli Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro litigano anche in Spagna. Oriana Marzoli Oriana Marzoli tutta preoccupata che Daniele potesse non avere capito, mentre gli altri concorrenti tentavano di rassicurarla. Oriana Marzoli Or � overflow sulla moda della maggior parte della madre Davian Oriana Marzoli mille euros por 12 mil pagos y se queda escucha atentamente oriana porque este es el trato abrimos no mi odiare solo lo fatto perché amore non si può no